Musica Napoli, nuova indagine su appalti per forniture di pasti nelle mense scolastiche, coinvolto anche il comune di Padula. BCC Sassano, entro il 30 la fusione con un altro istituto di credito, arrivano le dimissioni di dirigenti, il punto di Aldo Bianchini. Sassano, i bambini delle scuole elementari aderiscono a Puliamo il Mondo, promosso da Lega Ambiente. Santersegno, lunedì 28, conferenza stampa di presentazione del quarto premio nazionale sicurezza stradale Cristian Campanelli, promosso da Associazione Life e Banca Montepruno. Salernitana domani arriva la Ternana in crisi e senza allenatore. Buongiorno, ben trovati con il nuovo appuntamento con l'informazione di Uno News. Apriamo con la cronaca, andiamo a Napoli perché parte una inchiesta della Procura di Napoli per presunti appalti truccati sulla fornitura di pasti alle mense scolastiche della regione Campania, ed in particolare delle province di Napoli, Avellino e anche Salerno. Nel Salernitano sono due comuni coinvolti, Maiori e Padula. Per Maiori è coinvolto l'ex vice sindaco che è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre indagini in corso per ciò che riguarda il comune di Padula. Appalti truccati per la fornitura di pasti nelle scuole della provincia di Napoli, Avellino e Salerno. Questa mattina sono state eseguite 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di amministratori e imprenditori del napoletano per presunta associazione a delinquere finalizzata all'ottenimento di appalti per la fornitura presso le mense scolastiche. Anche il Vallo di Diano si trova implicato in questa nuova vicenda che tocca i bambini e i pasti somministrati. Secondo quanto emerso, sembra che le persone coinvolte, avvalendosi del sostegno di amministratori pubblici e dirigenti pubblici, si sarebbero aggiudicati gli appalti per la fornitura dei pasti dietro promessa di posti di lavoro per parenti e amici, portando così all'esclusione dalle gare le ditte concorrenti. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli hanno portato all'emissione da parte del GIP di 11 ordinanze di custodia cautelare per amministratori pubblici ed imprenditori, con i reati ipotizzati di associazione per delinquere. Altri reati sono la turbata libertà degli incanti, corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio, frode in pubbliche forniture, falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale, estorsione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Anche il Comune di Padula sembra sia rimasto coinvolto nell'inchiesta coordinata dal Procuratore Aggiunto Alfonso Davino e dai PM Henry Jod Woodcock, Celeste Carrano e Giuseppina Loreto, che vedrebbe anche la somministrazione di cibo scadente presso le menze scolastiche, sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria l'ex Vicesindaco di Maiori Antonio Romano. Al momento solo indagini in corso per il Comune di Padula. Cambiamo argomento. Un'altra vicenda che interessa il Vallo di Diano. Con la fine del mese di settembre, quindi entro il 30 settembre, dovrebbe concretizzarsi la fusione della BCC di Sassano con un altro istituto di credito. Il direttore del quotidiano di Salerno Aldo Bianchini, in un suo editoriale sul sito internet, fa un attento esame di quanto sta accadendo in questi giorni di fermento per l'Istituto di Credito. E sembra sempre più probabile la fusione con la BCC con sede a Vallo della Lucania. Intanto si registrano anche le prime dimissioni. Ai nostri microfoni, Aldo Bianchini fa un riassunto delle ultime vicende che interessano l'Istituto di Credito di Sassano. Ascoltiamolo. Per condurre un'inchiesta alla base ci voglio dire che io qualche documento ce l'ho, altrimenti sarei veramente uno che parte all'avventura. Per quanto riguarda i sette giorni, è la notizia che si era diffusa l'altro ieri perché la banca BCC di Sassano avrebbe già depositato in Banca d'Italia la proposta di progetto e per degli aggiustamenti la Banca d'Italia li era restituita, dando altri sette giorni e fissando per il 30 settembre il limite massimo entro il quale ci dovrebbe essere questo accorpamento. Se non ci sono sorprese, perché bisogna anche vedere naturalmente la banca del Cilento e della Lucania Sud come recepisce le proposte fatte dalla BCC Sassano e sarebbe interessante capire se saranno le stesse proposte che la BCC Sassano ha fatte alla Montepruno e perché la Montepruno le ha rifiutate e caso mai la Cilento le accoglie. Insomma, l'ingiesta è ancora lunga. I comitati, mi dicevi, almeno un comitato è nato spontaneamente ed è addirittura, sembrerebbe, sponsorizzato dal sindaco di Sala Consilina, Cavallone, Francesco Cavallone. Manca all'appello probabilmente il sindaco di Sassano che prima ancora di Cavallone dovrebbe rendersi parte attiva in questo discorso perché stando sempre a questi famosi carteggi lui ha avuto, ha recitato una parte nel mese, qualche mese fa ecco non voglio cominciare a collocare per data gli eventi lo farò successivamente ha già preso posizione e quindi aspettiamo che prenda posizione anche adesso insomma perché se per Sassano non andava bene diciamo ipoteticamente la Montepruno a maggior ragione non deve andare bene la Cilento perché qui siamo in un rapporto di 1 a 4 come forze la Montepruno e la Sassano più o meno 1 a 1 come soci la Cilento ha oltre 4.000 soci la Sassano non arriva a 1.000 quindi immagina che cosa può succedere dopo le prime votazioni ufficiali che ci saranno fra un anno, un anno e mezzo si rischia davvero di scomparire da ogni carica sociale come dicevo prima il 30 settembre dovrebbe essere il termine ultimo però c'è già gente che non intende aspettare questo 30 settembre infatti si è sparsa voce però che va verificata di due funzionari della banca che proprio ieri si sono dimessi dall'impiego e sono andati via e oggi rinunciare a un posto di lavoro senza avere delle certezze e credo che non ci siano certezze è un atto di grande responsabilità per non dire un atto di grande coraggio insomma denota tutto questo che qualcosa non va che qualcosa è saltato nell'equilibrio interno ed esterno di una realtà splendida del Vallo di Diano non solo per Sassano ma dell'intero Vallo di Diano e di questo i responsabili ne dovranno rendere conto secondo me non solo alla comunità ma anche alla loro coscienza e restiamo a Sassano ma cambiamo argomento anche i bambini delle scuole elementari di Sassano su iniziativa dell'assessore all'ambiente Mario Trotta aderiscono all'iniziativa promossa da Lega Ambiente Campania Puliamo il mondo da oggi e fino a domenica come in diversi comuni italiani italiani anche nel Vallo di Diano si terranno numerosi eventi per la tutela dell'ambiente vediamo anche il Vallo di Diano da questa mattina e per tutto il fine settimana è impegnato con associazioni, enti e privati in iniziative di tutela ambientale Puliamo il mondo edizione italiana di Clean Up the World come ogni anno si ripropone puntuale l'iniziativa promossa da Lega Ambiente dal 1993 con l'aiuto di enti, associazioni, scuole e privati mette insieme volontari per cercare di liberare dai rifiuti aree del territorio di particolare pregio storico, culturale naturalistico e paesaggistico l'iniziativa sempre più spesso cerca di coinvolgere i bambini delle scuole primarie di primo e secondo grado per cercare di sensibilizzare soprattutto loro verso un maggior rispetto dell'ambiente anche il Vallo di Diano ha risposto all'appello lanciato da Lega Ambiente Campania per dare il via ad iniziative dedicate alla pulizia e alla raccolta di rifiuti in specifiche località individuate dagli enti promotori i bambini a contatto con il mondo esterno e con la natura vengono così chiamati a prendere coscienza di quanto accade con i loro occhi possono constatare come il continuo abbandono indiscriminato di rifiuti distrugga il passaggio di particolare pregio a Sassano per i piccoli alunni delle scuole elementari questa mattina lezione speciale all'aperto con i loro insegnanti che li hanno accompagnati presso la villa comunale Paolo Borsellino di Silla di Sassano e successivamente nel centro storico per la giornata di Puliamo il Monto l'evento oltre a sensibilizzare i bambini sui temi ambientali e sull'importanza di mantenere pulito il territorio hanno così avuto anche modo di visitare e passeggiare attraverso il suggestivo borgo antico ammirando nelle particolarità un doppio vantaggio a Sassano come in diversi altri comuni del Vallo di Diano che pur non essendosi iscritti e l'iniziativa di Lega Ambiente hanno comunque contribuito e dato il via ad iniziative collegate Torna con la quarta edizione il premio nazionale per la sicurezza stradale intitolato a Cristian Campanelli promosso dall'associazione Life e dalla banca Montepruno lunedì 28 a Sant'Arsenio la presentazione ufficiale dell'evento è stato in programma sabato 3 ottobre Torna con la quarta edizione il premio intitolato alla memoria di Cristian Campanelli giovane giornalista del Vallo di Diano morto a seguito di un incidente stradale nel 2005 con la presentazione in conferenza stampa che si terrà lunedì 28 settembre presso la sede della banca Montepruno a Sant'Arsenio il premio è stato istituito su idea dell'associazione Life Sicurezza Stradale presieduta da Daniele Campanelli grazie al supporto e alla collaborazione della banca Montepruno ed in primis del direttore Michele Albanese che ha da subito abbracciato il progetto come altre iniziative finalizzate alla sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale e di rispetto delle regole sabato 3 ottobre si ripropone la giornata con la consegna dei premi alle persone che nel corso dell'anno si sono particolarmente distinti in ambito di tutela delle persone soprattutto verso la tutela dell'incolumità in materia di sicurezza stradale il premio di carattere nazionale è stato istituito prevalentemente per divulgare e promuovere l'impegno e le azioni poste in essere da cittadini forze dell'ordine associazioni e enti che nel tempo sono costantemente impegnati per garantire la massima serenità a quanti percorrono quotidianamente le arterie stradali e a sensibilizzare verso il rispetto del codice della strada con l'intendo principale di ridurre il triste fenomeno degli incidenti stradali troppe volte causa di morte con vittime prevalentemente giovani il Vallo di Diano è tra quei territori gravemente provato dal triste fenomeno tante e troppe le vite spezzate sull'asfalto che hanno pesantemente segnato le comunità valdianesi per non dimenticarli e per far sì che soprattutto i giovani acquisiscano il valore e l'importanza del rispetto delle regole per tutelare se stessi e gli altri l'associazione Life e la Banca Montepruno hanno dato il via alla manifestazione che per il quarto anno porterà sabato 3 ottobre a Sant'Arsenio presso il Teatro Comunale Giuseppe Amabile diverse personalità che in quest'anno appena trascorso negli anni passati si sono particolarmente distinti in azioni di contrasto e riduzione degli incidenti stradali lunedì 28 settembre alle ore 11 presso la Sala Cultura della Banca Montepruno si terrà la conferenza stampa di presentazione di questa quarta edizione del premio nazionale per la sicurezza stradale Cristian Campanelli 5 i premi in consegna il prossimo 3 ottobre con una giuria di esperti che hanno individuato i nomi di persone che in tutta Italia operano e hanno operato nel campo della sicurezza stradale e che si sono particolarmente distinti con azioni incisive oppure con soluzioni tecnologiche avanzate per il salvataggio delle vite umane e domani sabato 26 settembre alle ore 10 e 30 si terrà la cerimonia di intitolazione ad Aldomoro della Sala Conferenze di Palazzo Piccini adiacente a Piazza Umberto I a Sassano dopo i saluti del sindaco Tommaso Pellegrino del segretario provinciale del PD Nicola Landorpi del coordinatore di zona del PD Mimmo Cartolano e dei deputati Sabrina Capozzolo e Tino Iannuzzi si terrà la relazione dal titolo Chi e perché ha ucciso Aldomoro dell'onorevole Gero Grassi vicepresidente del gruppo PD alla Camera dei deputati e tra i maggiori esperti italiani sulla vicenda di Aldomoro Cambiamo argomento il professore Vincenzo Lovisi storico della dieta mediterranea ha tenuto dei corsi su questo argomento per la sede regionale di Piedimonte a Teggiano ai microfoni di Pietro Cusati il professor Lovisi traccia un bilancio dei corsi e ce ne parla in dettaglio ascoltiamolo i corsi sono andati benissimo abbiamo avuto una grande risposta dal punto di vista delle adesioni e soprattutto quello che ci ha fatto piacere che era la fascia erano la fascia d'età era da 25 anche a 60 anni che hanno partecipato la maggior parte donne ancora una volta la presenza femminile è quella che dà il meglio di se stessa in che cosa consistevano questi corsi praticamente il corso che abbiamo terminato ultimamente dato dalla regione Campania col centro che si trova a Piedimonte abbiamo fatto lo scettro di Demetra che si occupava di un recupero di tutto ciò che sta dietro alla dieta mediterranea da un punto di vista storico partendo da quello che era l'elemento del grano come elemento base come spartiacqua della civiltà dell'uomo al momento in cui l'uomo scopre il grano praticamente diventa un uomo civile ma alla scoperta del pane il pane che diventa il simbolo dell'uomo civilizzato e quindi noi abbiamo fatto il recupero di una serie di piatti che vanno dai famosi cavuzoni nostri i ravioli che sono considerati dagli storici il piatto della conciliazione perché mettono d'accordo il mondo condadino col mondo pastorale da sempre in nemicizia tra di loro fino ad arrivare a quelle che erano le paste le paste secche derivanti sempre da quello che era l'elemento della coltivazione del grano sì hanno riscosso molta attenzione soprattutto questo recupero e portare a loro il mondo delle tradizioni come venivano i riti che erano legati alla preparazione di questi piatti e che venivano poi consumati anche durante le feste pensiamo un poco i cavatielli che di solito erano consumati da domenica e quindi un altro piatto che viene dall'antica Grecia insieme con i ravioli e con le famose lagane che derivano dall'aganon greco il comune di Padula ha partecipato nei giorni scorsi ad un incontro a Perugia dove è stata discussa la possibilità per il comune valdianese di inserirsi come tratto italiano sud del cammino di Santiago di Compostela Nell'ambito delle attività di promozione e valorizzazione del proprio territorio messi in campo dal comune di Padula nel più ampio progetto denominato servizi innovativi per l'attivazione di reti collaborative nazionali ed internazionali per la gestione integrata del sito UNESCO Certosa di Padula il dottor Alliegro per conto del comune ha partecipato nei giorni scorsi a Perugia ad un incontro con il professor Caucci presidente del centro italiano di studi compostelliani durante l'incontro ha trovato riscontro che il vallo di Diano era percorso da un itinerario di pellegrinaggio che da Padula porta al santuario di Compostela è stata discussa pertanto la possibilità per il comune di Padula di candidarsi come tratto italiano sud del cammino di Santiago che da Padula giungeva a Roma ed Assisi con l'obiettivo di far parte del grande itinerario culturale europeo San James Way è stata discussa inoltre la possibilità per il comune valdianese di essere nodo per l'Italia meridionale per il rilascio del credenziale del pellegrino un'opportunità che va accolta anche in ottica del prossimo giubileo le ricerche storiche bibliografiche nonché la riscoperta di rilevanti tracce nel valo di Diano come ad esempio il ciclo pittorico destinato a San Giacomo nella chiesa di San Michele alle grottelle a Padula ha permesso di sostenere che Padula antica acosilinum era situata su un importante tragitto di pellegrinaggio verso Santiago che decompostella l'incontro quindi molto proficuo si è concluso con un prossimo appuntamento a Padula per una giornata di studi per approfondire le tematiche affrontate Bentornati alla seconda parte del nostro TG cresce la devozione intorno alla figura di San Pio da Pietralcina a Sassano a dimostrarlo la grande partecipazione in occasione della festa in suo onore a Varco Notarercole di Sassano nei giorni 22 e 23 settembre a chiudere i festeggiamenti quest'anno il gruppo musicale Collage sono stati i Collage a chiudere i festeggiamenti d'onore di San Pio da Pietralcina a Varco Notarercole di Sassano negli anni la festività sta acquisendo sempre maggior valore nel cuore della comunità sassanese che nei giorni del 22 e 23 settembre si riunisce intorno alla figura del santo con le stigmate nelle ultime due edizioni poi protagoniste della festività sono state le reliquie che per alcuni giorni e in concomitanza con la festa sono stati ospiti della chiesa del cuore immacolato di Maria accolte da Don Carmine Tropiano le reliquie consistenti nei paramenti liturgici di San Pio e in un guanto utilizzato dal frate per nascondere alla vista e alla curiosità delle persone le stigmate sulle sue mani sono giunte a Varco Notarercole per manifestare e per ricordare l'insegnamento di fede di Padre Pio un frate a volte burbero ma che non ha mai lasciato senza consolazione senza una parola buona chi chiedeva il suo aiuto la venerazione del frate con le stimmate era partita ancora prima dell'inizio del processo di beatificazione con milioni di persone che ogni anno giungevano e giungono tuttora a San Giovanni Rotondo per pregare sulla sua tomba dal riconoscimento della sua santità in diversi comuni anche del Vallo di Diano sono state organizzate feste religiose in suo onore a Varco Notarercole di Sassano si ripete ogni anno con un crescendo di partecipazione da parte dei fedeli sia alle processioni che alla festa nei giorni del 22 23 settembre quest'anno a chiudere i festeggiamenti sono stati i mitici Collage il gruppo musicale che ha raggiunto il suo successo negli anni 70 e che da allora continua a portare a raccogliere intorno a sé un grande pubblico per le sue canzoni immortali ciao a tutti buon proseguimento con i programmi e niente andate a trovarci nel nostro sito magari www.collage.it ciao a tutti e si svolgerà domenica 27 settembre il primo raduno di Fiat 500 Storiche le auto si raduneranno alle 9 presso il piazzale della pasticceria Peccati di Gola dei fratelli Tropiano che offriranno anche la colazione e a seguire la partenza verso il centro storico di Sala Consilina successivamente breve sosta al cartodromo scusate Valpista dove sarà offerta un breve rinfresco e poi il rientro a Silla di Sassano per il pranzo al New King noi abbiamo ascoltato gli organizzatori della manifestazione Mario Caputo e Antonio Paladino che ci parlano dell'evento vediamo previsto il raduno alle ore 9 presso il Peccati di Gola a Silla di Sassano dove saremo lì tutti quanti noi organizzatori ad aspettarvi dopodiché fatta l'iscrizione e tutto quant'altro si scambiano due chiacchiere due parole si sa come di consueto e inizierà la carovana presso Sala Consilina al quale passeremo per piazza Umberto I faremo il giro nel centro storico di Sala per dirigerci poi verso il cartodromo Valpissa il quale ci ha ospitati lì ci sarà un altro po' di raduno chiacchiere e robe varie e poi ci dirigiamo verso il ristorante il New King di Silla di Sassano in sostanza è un giro semplice per non far affaticare molto le 500 certamente questi sono eventi proprio per creare socializzazione come ha detto lei per uno scambio di idee uno scambio di opinioni perché c'è chi ha l'idea della 500 ad esempio o la 500 originale e chi ha l'idea della 500 elaborata quindi tutti quanti dobbiamo rispettare l'idea l'uno verso l'altro non bisogna giudicare nessuno Sì noi abbiamo fatto già dei raduni nel 2005 e nel 2006 perché la 500 in effetti insomma è mitica insomma un'icona italiana proprio che ha portato per esempio giovani e meno giovani sull'avere diciamo l'approccio automobilistico e quindi muoversi e quant'altro in questi raduni che poi vengono fatti diciamo con tutte le autostoriche è un peccato perché la 500 non viene risaltata come dovrebbe e quindi insomma per dargli la giusta importanza che forse è la macchina più importante a livello nazionale italiano quindi facciamo un raduno solo ed esclusivamente per lei per onorarla per tutto dopo tanti anni 30 anni 40 anni 50 anni che ha 58 precisamente sulle spalle allora veniva come dire vederla nella fila con le altre macchine confusionata e non risaltata a dovere quindi diciamo come sono belle vederle tutte quante insieme diciamo originali elaborate la gente contenta dentro che diciamo mette in mostra questo suo giocattolino dai lo chiamiamo il giocattolino e allora visto che gli vogliamo bene tutti quanti abbiamo cercato di fare qualcosa solo per lei esclusivamente per la 500 anche perché tutti bene o male hanno una 500 in un garage in qualche altro posto che fanno le mettono a posto spendono un sacco di soldi tutto quanto e poi restano lì sotto un lenzuolo sotto un telo o forse alle volte pure sotto l'acqua davanti perché chi non ha un posto però perché non far risaltare questo diciamo cioè dargli la giusta importanza e ora passiamo allo sport con il calcio e con la serie B terza gara in una settimana per la Salernitana che chiude domani contro la Ternana sette giorni di fuoco iniziati con lo Spezia e proseguiti martedì con la trasferta a Pescara gara difficile quella contro gli Umbri e tanti dubbi di formazione per Torrente dopo il pareggio conquistato sul campo del Pescara nel turno infrasettimanale la Salernitana di mister Torrente ha preparato in pochi giorni un difficile match contro la Ternana squadra ultima in classifica e reduce dall'addio di mister Toscano che ha lasciato la panchina dei Rossoverdi una gara complicata più di quanto possa dire l'attuale situazione di classifica degli avversari in questi casi infatti il cambio di guida tecnica sulla panchina degli Umbri siderai il tecnico della primavera a Vincola offre nuove motivazioni alla squadra e ai giocatori per questo mister Torrente avrà chiesto ai suoi una concentrazione maggiore e una prestazione migliore rispetto all'ultima uscita interna contro lo Spezia in assenza di schiavi appiedato dal giudice sportivo il tecnico di Cetara ha approvato nuove soluzioni in difesa si va verso la coppia centrale con Trevisan e Lanzaro nonostante ieri sia stato provato anche il giovane Ampereur sulle fasce confermati Rossi e Franco dal centrocampo in su tutto dipenderà dalle condizioni di gabionetta pedina indispensabile per la salernitana di questo inizio di stagione se il brasiliano ce la farà si gioca con il 4-3-1-2 altrimenti un prudente 4-4-2 con Perrulli e Troianiello sulle fasce e in avanti la coppia Donnarumma è uno tra Coda e Eusepi tutte ipotesi al momento che saranno sciolte soltanto poche ore prima del fischio d'inizio il terzo impegno in una settimana infatti obbliga Mister Torrente ad un po' di turnover intanto buone notizie dall'infermeria Nalini è tornato a lavorare insieme ai compagni e potrebbe diventare presto una nuova ed importante freccia all'arco del tecnico della salernitana continuiamo con il calcio occupiamoci però del calcio dilettanti amichevole per il Valdiano ieri che ha affrontato la nuova San Vito Sapri in attesa della gara di domani contro l'Ebolitana la squadra di Masullo ha pareggiato 2-2 con la squadra di Mister Scarpitta che si è presentata ufficialmente ai propri tifosi si è disputata ieri pomeriggio allo Stadio Italia di Sapri un amichevole tra la nuova San Vito Sapri prossima all'inizio del campionato di prima categoria e il Valdiano di Mister Masullo la gara era l'occasione per la squadra di Mister Scarpitta di presentarsi ufficialmente ai propri tifosi e quale migliore occasione se non un amichevole con una squadra che milita nel massimo campionato regionale il finale della gara è 2-2 con i Blaugrana in vantaggio nel primo tempo con Puoli ma poi raggiunti e superati dalla squadra della Spigolatrice con i gol di Marsicano e dal rigore trasformato da Danilo Bianco nella ripresa Pascuzzo firma il gol del definitivo 2-2 una partita piacevole per gli spettatori con il San Vito Sapri che ha ringraziato la società Valdiano per la collaborazione e massima disponibilità in occasione di questo evento Valdiano che domani pomeriggio sarà impegnato nella trasferta difficile di campionato al Dirseo di Eboli contro l'Ebolitana di Mister Nastri una gara complicata e complessa per i valdianesi che dovranno fare a meno della squalificato Calandriello causa espulsione di sette giorni fa contro il Massa Lubrense ad arbitrare la sfida sarà il signore Epifanio annunziata di Torre del Greco tra le gare di spicco di questa terza giornata c'è sicuramente il derby di Scafati tra Scafatese Calcio e US Scafatese gara interna per l'FC Sorrento che riceve il Sant'Antonio Abate mentre dopo il pareggio di sette giorni fa il cittadino c'era cerca i tre punti davanti al proprio pubblico contro il Sorrento Calcio e con lo sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti